Un libro che parla di un tema sempre attuale, un'ottica particolare dal punto di vista delle donne che è quella della violenza purtroppo. Sì, il libro racconta appunto di due ragazze che entrambe subiscono violenza. Una ha 23 anni, stuprata, e l'altra ha 17, condizionata da quello che è l'ambiente esterno, quindi dal giudizio delle persone, e anche lei violentata. Anche se poi il suo è più un convincersi del fatto che comunque, siccome il tutto si svolge in una gita scolastica e si sente comunque fuori da quello che è lo schema della normalità, si sente diversa rispetto alle sue compagne e quindi si crea una situazione dove è compromettente, insomma. Come ti è nata l'idea di questo libro? Allora, io ho conosciuto queste ragazze all'interno di un'associazione dove ci sono tante storie come le loro, ma anche diverse. Io ho avuto modo di confrontarmi con loro sotto vari aspetti. Abbiamo installato comunque un ottimo legame, siamo diventate amiche e si sono confidate con me, così come in certi momenti mi sono confidata io con loro. Quindi è stato un percorso abbastanza lungo e quindi mi hanno raccontato la loro storia. Siccome mi ha colpito molto, ho deciso di raccontarla perché le ritengo due storie valide e soprattutto molto attuali. Allora, l'uscita del libro, insomma, quando ci sarà e quando lo presenterai ufficialmente? Ufficialmente uscirà il 26 di settembre. Faremo un anteprima ufficiale sempre a Roma, in una delle più importanti librerie della Feltrinelli proprio a Roma, il 22 di settembre. Qui invece nel tuo territorio, nel tuo ambito? Qui il 9 di ottobre, alla chiesa del Confalone, a Saltara. Verso le 6, però quella poi è da dare conferma. Comunque in ogni caso su sito e sui social, Facebook, comunicheremo tutte le date e gli aggiornamenti. Grazie.